Occorreranno 45 giorni di lavoro la ditta Tiozzo di Sottomarina di Chioggia per ridare alle darsene del porto i 3 metri e mezzo di pescaggio per far lavorare in tranquillità vongolare e operatorittici del porto di Fano dopo innumerevoli anni di attesa per questa importante opera di dragaggio. Noi in due anni non dimentichiamoci che fine 2015, inizio 2016 abbiamo già dragato 34.000 metri cubi di fanghi. Oggi in questo periodo ne rifaremo altri 27.000, 61.000 metri cubi di dragaggio, quindi di portata storica. Nella storia di questa città non c'è un evento di questo genere. A questo si aggiungeranno anche un altro milione già approvato dal CIP in prospettiva per ulteriori interventi in futuro, ma a brevissimo appalteremo anche altro mezzo milione di interventi per le darsene. Questo perché sta in un progetto organico complessivo. La prima draga ha iniziato questa mattina ad operare dopo un lavoro preparatorio che è durato quattro mesi, in cui la ditta e i tecnici del comune hanno lavorato a stretto contatto di gomito per accelerare le normative ed interfacciarsi con la regione Marche, dove i consiglieri Boris Rapa e Renato Claudio Minardi hanno speso energie e tempo per rendere fluido l'iter burocratico. Dopo i 34.000 metri cubi del 2015, ora ne verranno asportati 27.000, in un evento che ha nell'eccezionalità la sua regola, ma che in realtà dovrebbe essere la norma. Quindi un lavoro che prevede di portare 7.000 metri cubi di sedimenti a sommergimento fuori Ancona, in una zona di mare individuata allo scopo, e gli altri 19.000 in cassa di colmata del porto di Ancona. Quindi un intervento molto importante, per cui siamo soddisfatti di poter riportare all'efficienza le darsene che erano in condizioni di impraticabilità ormai. Ad accogliere favorevolmente questo inizio lavori, oltre alla capitaneria di porto, occupata sul fronte della sicurezza della navigazione, per la quale, viste le condizioni del canale e della darsena, non si dormivano certo sonni tranquilli, soprattutto il mondo della pesca, armatori e marinai che quotidianamente affrontano le difficoltà di attracco e di uscita dal porto, causa anche di impoverimento della nostra flotta peschereccia. Grande soddisfazione perché veramente stava diventando impossibile operare nella darsena, benché le vongolari abbiano un pescaggio modesto, però si lamentano danni alla carena, per l'eccessiva vicinanza col fango, poi ogni giorno si sporcano i filtri delle pompe, tocca fermarsi in mare, pulire il filtro, una volta si prende una cima nell'elica, perché essendo il fondo a stretto contatto col fondo della barca, chiaramente succedeva di tutto. Adesso finalmente, dopo possiamo dire tanti anni, abbiamo la soddisfazione di avere nuovamente un porto agibile.